A Cerignolas è un ortopedico, sia male è difficile tenere aperto il reparto. Gli anestesisti in tutta la provincia sono ambitissimi. Dall'ASL partono avvisi su avvisi, i bandi vanno deserti, mancano le figure professionali richieste, i medici non rispondono alle chiamate. E' ormai cronica la carenza di specializzati in alcune discipline mediche. Nella lista figurano anche radiologie e psichiatria. Nell'emergenza urgenza non bastano mai con un frequente fisiologico ricambio. Una volta reperite le risorse per le nuove assunzioni, 16 milioni sbloccati nel 2016, così da sopperire alle criticità ampliando le dotazioni organiche, l'azienda sanitaria locale si trova di fronte all'impossibilità di coprire le posizioni vacanti per mancanza di profili. Voi li assumereste pure, psichiatri, ortopedici in particolare, ma a quanto pare le figure professionali non ci sono. In alcune delle specializzazioni sì, c'è una carenza ormai strutturale in Puglia. Gli accordi con le università, tra regione e università, stanno provvedendo a recuperare questa criticità. Però ovviamente ci vorrà un po' di tempo. Nel contesto in cui ci muoviamo, peraltro, cioè quello di Capitanata, della mia ASL, abbiamo un'ulteriore difficoltà che è quella geografica e quindi ambientale. Quindi molti di questi, come diceva anche il professor Bellomo, molti di questi specializzanti, ahimè, sono di altre aree geografiche, trovano più vicino casa un posto di lavoro e preferiscono andare lì. Intanto voi vi state attivando per avviare nuovi servizi, tra cui la senologia? Ah sì, sì, quello sì. C'è la rete senologica che sta partendo, con grandi difficoltà, ma sta partendo. È partito quindi, è anche ripartito lo screening.